Salutarvi come salutavo mio papà, visto che di quello abbiamo parlato. Comunque Forza Toro, sempre, sempre Forza Toro. Una cosa al volo. Sappiamo che lei, direttore, è molto attivo sui problemi dei cittadini, delle persone. Noi, come nel nostro piccolo, come osservatorio Granata, abbiamo preso un po' molto a cuore la situazione dell'Emilia-Romagna. Qua c'è un messaggio, Sant'Agata ha bisogno. Qui c'è un evento che andrà sabato, una partita di calcio dei bimbi. È possibile, magari è una richiesta importante, non abbandonare queste persone che ancora stanno lottando col fango. Noi ci occuperemo, fra l'altro, proprio di Emilia-Romagna. Abbiamo anche un servizio. Su quello avremo ospite in studio una delle persone che ha perso tutto e che ancora non riesce a ripartire. Quindi, insomma, cerchiamo di tenere lì adesso anche quell'argomento. Benissimo, benissimo, direttore. Quando avete bisogno, al martedì sera, compatibilmente con le cose, vi vengo a salutare. Grazie mille. Grazie mille.